Per la serie digeriremo domani Aspetta, viva questa! Per la serie digeriremo! Siamo a Lugiana, ma che negozi fighi ci sono? C'è delle cose spettacolari, infatti mi sto fermando ogni negozio Praticamente perché mi comprerai il mondo Ci sono tutte le cazzatine che piacciono a me Veramente bellissime! Una via ogni metro, un negozio adatto a me E alla mia inguaribile voglia di spendere soldi Alla mia irrefrenabile voglia di spendere soldi Sono quattro pa! Uno, due, tre! C'è anche una soveglia gigante Sono bellissimi questi, eh? Ragazzi aiutatemi, ci sono un sacco di cosa è bella! Voglio morire! No, non posso! No, non posso! Sì, vabbè, vabbè, vabbè. Grazie a tutti. Vedete il fumo che esce? No. Ma qualche anni fa ci credo. Chi? Chi nel mare di pastori, mario di testa. Certo. E ora dove sono? Eh, non ci sono più. E tu bevi la cioccolata calda? No. 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 Ecco. No, non è proprio Natale, è San Nicola. E questa? La buona posta prima. No. 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 No.